Era un test importante quello di sabato dove allo stadio arrivava la neopromossa Legnago guidata dall'ex Atalantino Massimo Donati. La squadra di Lopez dopo la sconfitta di Mantua aveva la possibilità di confrontarsi con una formazione dallo stesso obiettivo, la salvezza. Approccio sbagliato, squadra svagata, lentissima, impacciata che di fronte ad un Legnago non fenomenale ma tenace soccombe per 0-1 anche grazie ad un grosso lano errore difensivo l'ennesimo di questo inizio campionato. Nella ripresa sicuramente meglio la formazione bruciadeste che tiene costantemente nella sua metacampo i Veneti ma da poca impressione che il pareggio possa arrivare da un momento all'altro. Le occasioni ci sono, il pari forse sarebbe stato il risultato più giusto ma senza cattiveria e spirito di squadra vai poco lontano. La squadra ha giocato soprattutto sui singoli sicuramente pochi da salvare in questa partita se vogliamo ci mettiamo il centrocampista Zanini, tutto fare, l'unico che poteva prendere mano la squadra con energia e Zuma davanti che tutto sommato anche se non ha fornito una grande prestazione dava sempre l'impressione che potesse arrivare il pericolo. Poi poco altro a salvare. Ora il pensiero oltre che alla classifica è a sabato dove a Caravaggio alle ore 18.30 andrà in scena il derby bergamasco DC tra Atalanta Under 23 e Albino Leffe. La Coppa Italia di mercoledì forse può aggiustare alcune cose prima del derby. L'Atalanta Under 23 è andata a Vicenza con tante aspettative, una delle quali di capire quale sia la sua forza in questo campionato. Arrivava con una buona classifica e la prestazione in continua crescita malmenti e ha capito quanto in questo campionato l'esperienza conti più della spavalderia e torna a Bergamo con una sconfitta secca per 3-0. Buon primo tempo equilibrato dove i bergamaschi possono trovare anche il vantaggio con di serio ma 5 minuti dal termine i vicentini trovano il gol con Projan che indirizza il match. A quel punto per l'Atalanta tre trasferte e soltanto un punto raccolto tutto si fa complicato e nella ripresa la squadra di casa raddoppia con Ferrari, bomba l'argentino già a 4 gol in campionato e poi a fine gara chiude il match con il terzo gol di Rolfini. Ora testa subito sabato quando nel fortino di Caravaggio due partite due vittorie per i bergamaschi arriverà l'Albino Leffe per il derby tanto atteso dove entrambe le squadre hanno bisogno di ritrovare certezze. Lo stadio visto le partite precedenti giocate in casa dall'Atalanta sarà sicuramente esaurito e questo richiamerà anche i giocatori a dare più del loro limite.